E a vincere la Gran Fondo Gianni Pugno è Davide Benedetto, secondo Giulio Magri, terzo Romeo Arrigoni. E a vincere la Gran Fondo dedicata ai vent'anni della vittoria del grandissimo Gianni Pugno nel Giro d'Italia. 20 anni dal grande 1990 di Gianni Pugno. La bella emozione, ci ricordiamo tutti quegli anni, sono stati bellissimi, sono bellissimi ricordi. Sono contento di aver vinto questa cosa, ci tenevo anche l'anno scorso ma purtroppo non ero in buone condizioni. Quest'anno l'ho vinta, sono contento così.